Davanti a voi avete nuove divinità incredibili, come questo Goku ultra istinto con gli abiti di Whis. Quindi sì, è diventato un angelo, prendendone il posto, ma poi abbiamo anche Toppo, non più a Kaishin, ma come vero, dio della distruzione. E poi abbiamo anche Riff, così piccino, ma anche di una divinità. Per non parlare poi di Gogeta e Vegito Super Saiyan God, tutte quelle che state vedendo sono delle mod, sono giocabili solo sulla versione PC del gioco. E per tutti i giochi in versione PC ho per voi il nuovo grande sponsor di oggi. Stiamo parlando di Eneba. Eneba è un sito per acquistare videogiochi con un totale di oltre 20.000 prodotti digitali. In pratica trovate tutto ciò che un fan del gaming cerca. Ci sono tante offerte e occasioni per ogni singolo gioco, ma se cercate un videogioco specifico vi basta scriverlo nella barra di ricerca e lo troverete subito. Gli sconti ovviamente ci sono anche sui videogiochi di Dragon Ball come Sparking Zero, Xenoverse 2, Kakarot e tanti altri. Le recensioni di Eneba su Trustpilot sono ottime e in ogni caso c'è il supporto attivo 24-7 per qualsiasi cosa. In descrizione trovate il link per il sito con tutti gli sconti, datevi un'occhiata. Ed eccoci qua! Godiamoci questo Goku Ultraistinto bellissimo! Delle animazioni facciali pazzesche, vabbè, queste appartengono già proprio di per sé al personaggio, ma vedere questo Goku Ultraistinto con questi abiti è veramente bellissimo. Mi raccomando ragazzi lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, perché oggi non siamo solo nell'allenamento, ma direttamente nelle battaglie. Voglio andare a verificare il potere di questo Goku Ultraistinto con gli abiti di Whis, andando a superare quindi anche il suo maestro, si presuppone, direttamente in battaglia, quindi vediamo il suo potere, guarda come scansa tutti i colpi, però a un certo punto non li poteva scansare tutti. Questo ci permette di provare il personaggio con minor dettaglio, ma finché non abbiamo dei moveset effettivamente personalizzati, ci conviene più fare una battaglia che almeno è più divertente, che ne so. Una bella Ultra Kamehameha, che purtroppo non è andata a segno. Questa ragazzi è veramente forte, ma poi anche proprio di per sé... Vi faccio vedere una chicca, aspetta, mi è venuta in mente ora. Guardate questa chicca, lo inseguo e poi premo cerchio e riesce a fare questo movimento pazzesco per appunto inseguire meglio l'avversario, vedete? Premo cerchio in questo momento e si muove così. Questa è una chicca che non tutti sanno, ma sicuramente è una delle cose più belle in assoluto di Spartan Zero che il gioco, se non sbaglio, non te le spiega. Allora, vediamo Ultra Raffica con gli abiti di Whis. No, era parato. Vediamo, adesso essendo a terra forse va a segno. Guarda che bello! Ma quanto bello è veramente, fra? E si vede un po' sotto lo stage questa cosa, ragazzi, eh? È rimasta, è rimasta. Giocando, giocando, non è che ti crea troppi problemi, però indubbiamente c'è come. Allora, io vedo se riesco... Ma guardate che scontro pazzesco! Lo lancio via. Kamehameha Suprema, con l'Ultra Estinto, un vero angelo! Attenzione! Ma non ha concluso la frase Kamehameha, ma scusami. No, credo di sì. Mi sarò perso io qualcosina. Però veramente, veramente bello. L'abbiamo spaccato un botto. Guarda, povero Vegeta. L'ha presa, nemmeno me la ricordo tanto. Carina, particolare. Mamma mia, sbattuto al muro! Eh, vabbè, detto così, un po' compromettente. Vegeta, ragazzi, non si ripiglia più. Vegeta! Mamma mia, ragazzi, si era frizzato totalmente! Povero Vegeta! Ma cosa abbiamo qua? Vabbè, abbiamo niente di pensamenti. Poi che altro ci abbiamo? Ci abbiamo... Cos'era? Ultramovimenti. Vediamo se riusciamo a farli tra pochissimo. Vabbè, attiva lì ora. Ce li abbiamo attivi. Gli va banalmente alle spalle. E poi l'ultra camia mia che ha devastato totalmente Vegeta. Io direi che ormai è arrivato il momento per noi di cambiare personaggio. Abbiamo Beerus contro. Proviamo ad utilizzare un'altra divinità della distruzione, ovvero Toppo. Allora, Toppo, ragazzi, già di per sé mi piace molto all'interno del gioco. Oh, si stava recuperando vita col sonno. Che stava facendo? Veramente molto particolare, Toppo. A me è sempre piaciuto anche in questa versione a Kaishin. Vederlo proprio con gli abiti da divinità della distruzione fa proprio un bel effetto. Qua abbiamo il lampo di istruzione. L'ha colpito. Non gli ha fatto troppi danni, ma almeno l'abbiamo interrotto che si stava facendo lo sparking. Amico mio. Se l'è attivato lo stesso. Vai con l'Akai. Bellissimo. Ragazzi, allora. Un maronami. Vuole far vedere chi è il vero Akai qua? Mi sono parato. Però vedere Toppo con questa sfera della distruzione è veramente... Uno spettacolo. Dai, guarda qua. È la fine! Boom! Gli toglie 9500 danni. Mica sono pochi. Veramente non male. Wow, era bloccato in una posa un po' strana. Cosa abbiamo? Eccoci qua. Guarda quanto cavolo è bello questo Toppo. Toppo bello, veramente. Mi piace troppo sempre fare questo mimino. Super sfera della disgregazione. Maronami Gesù Cree. Guardalo quanto è bello. Questo è bello proprio, veramente. Proprio la combinazione di colori per Toppo con gli abiti, cioè, secondo me, fa veramente un bel effetto. In questi casi, devo essere sincero, mi manca veramente troppo una modalità foto. Cioè, il gioco assolutamente se la merita. Prima di fare altro, aspetta, facciamogli una bella presa. Wow, quando lo acchiappa, cioè, fa veramente paura. Ed eccolo qua. Io avevo messo... Wow, l'ha colpito pure. È entrato in battaglia col pendolo. Avevo messo lui, il carissimo Giozzi. Allora, il modello ha qualche problemino, diciamocelo. Perché, semplicemente, notate? La parte del corpo è un po' più biancastra rispetto proprio alla nuca. Questo lo penalizza... Oh, acchiappa... Tenzing, ma sei impazzuto? Ma che fai? Cioè, è il tuo miglior amico? Guarda, tra l'altro non ci vede nemmeno più. L'ha perso di vista. Dodonpa! Riff fa veramente... Non so, un effetto strano, eh. Veramente un po' particolare. Lancia massi! E tra l'altro, cioè, vedrelo così pompato, sto riff fa veramente stranissimo. Allora, direi di andare a vedere dov'è l'avversario. Anzi, in realtà potrei fare, ecco, andargli alle spalle. Mamma mia, quando fa l'attacco di testa... Io poi, ragazzi, credo che vi pubblicherò successivamente uno showcase proprio dedicato anche ai guerrieri Zeta per andare a scoprire anche qual è la suprema più forte del gioco. Perché mi avete scritto che appartiene ai guerrieri Zeta. Mi pare strano, però... Ho letto un commentino, voglio poi andare a verificare se è vero. Andiamo alle spalle? Non c'è nemmeno stato troppo bisogno di andargli alle spalle. E quindi, purtroppo... Ehi, Shinan! Ci saluta. Quanti danni gli facciamo? 13.000, un po' pochi. Wow, è riuscito a resistere un botto. Sei una vera spina nel fianco. Sto colpo ce lo becchiamo tutto, dai. O forse no. Te le trasporto al momento giusto, prova a fare la cafonata. Ragazzi, il colpo è andato a terra. Non ci ha presi minimamente. E direi di andare con Vegito. Allora, Vegito ce l'abbiamo con abiti diversi. Ho unito due mod qua. Quindi una roba probabilmente mai fatta prima, se non già in un mio precedente video. Cioè, lui ha due mod, vi spiego. È una mod che include il Super Saiyan God, ma dovrebbe avere degli abiti assolutamente normali. E poi una mod che inclui, tra l'altro vedete, l'aura personalizzata, le mosse. Per ora non mi sembra, ma presto ci saranno anche variazioni di moveset. Cioè, ragazzi, avremo tutto come Xenoverse 2 alla grande, dove cambia tutto per ogni personaggio. Ecco, gli abiti sono totalmente diversi. E in realtà lui avrebbe dovuto avere il Super Saiyan Blue e, in generale, tutte quelle che sono le caratteristiche del Vegito base. Ma solo con abiti diversi. Invece io vi ho unito due cose diverse. Allora, prima di provare questo, dai. Siamo fedeli un po' alla storia, ma fino a un certo punto, perché qua abbiamo il God. Anche lui c'ha l'aura del Super Saiyan God. Non so se è proprio Recolor. Perché? Perché l'aveva perso di vista? Non ho capito questo trick un po' strano. Andiamo a ricaricarci, Kamehameha Big Bang. Guarda che bello, anche da Super Saiyan God. Se l'hai preso in pieno il colpo, ma che mi fai? Brother, ma sei un po' confuso, un po' stranito? Vieni a prenderle, brother. Eh, Super Saiyan God fa il suo effetto, dai. Chi mi mette in battaglia? Oh, parati! Guarda come sta bello carico. Allora, qua abbiamo la spinta punitiva. Vabbè, ragazzi, io proprio questo Gogeta l'ho utilizzato già un sacco di volte online. Era uno dei miei main online fino a poco tempo fa. Sono rimasto incastrato? Ma veramente? Ma scusatemi! Vediamo se riesco ad uscire da questa situazione. Sono proprio bloccato. Ma... Sono stato costretto a ripartire da zero. Questo è stato un bel problema. Tutto in diretta. Peppe Nielo, non vi taglia nulla. Qui solo TV verità. No, TV proprio no. Ma comunque qua vedete quello che succede. Eccolo qua. Quindi, niente da fare. Sono dovuto ripartire da capo. Spiacevole. Fin'ora in Spark in Zero non mi era mai successo. Io in totale ho oltre 100 ore di gioco considerando sia la versione PC che quella PlayStation 5. Su PlayStation 5 ho tipo 100 ore. Qua su PC ne ho tipo 5 perché ho provato solito e esclusivamente le mod qua su PS5. Allora, andiamo un attimo a riprovare questi attacchi perché purtroppo sono rimasto proprio maluccio, cavolo. Vediamo un po'. Cosa abbiamo? Il frantumatore stellare. Come vi anticipavo, questo è un personaggio che io già provavo tante volte online. Era uno dei miei main fino a poco fa. O comunque l'ho utilizzato veramente tanto. Poi sto iniziando a sperimentare un po'. Anche a costo di perdere qualche sfida. Però online ci vado solo con la versione PS5 ovviamente. Con le mod mai anche per rispetto degli avversari. Però per ora sono solo mod estetiche. Quindi il discorso non crea problemi. Finché solo roba estetica si può pure fare. Però c'è sempre il rischio, secondo me, di ban e robe simili. Quindi sconsiglio sempre l'utilizzo delle mod online a prescindere. E poi cosa abbiamo? Vabbè, la pose inamovibile. Guarda che bello. Da Super Saiyan, Gingodo. Tra l'altro questa è la versione, quella del film. Quindi purtroppo non è possibile andare a fare ulteriori, non so, trasformazioni. Potevo scegliere anche la versione di Super, ma non ho verificato se quella c'aveva altro. Ed ecco qua. Abbiamo il bel Vegito, che fino ad ora l'avevamo un attimo trascurato. Perché poi siamo passati subito al Gogeta, poverino. Ed eccoci qua. Bella. Guarda, Laura, questa qui del Super Saiyan God, è una delle mie preferite. Ma una delle più belle, io non so se ve la ricordate, ma è quella di Zamasu Fusione. Cioè, ragazzi, quella è veramente spettacolare. Poi, kamehameha finale! Bella pure la posa di questa. Veramente è stato fatto un bel lavoro su tutti questi personaggi. Guarda che velocità pazzurda, pazzesca, incredibile. Vabbè, poi, di per sé, queste fusioni, soprattutto, sono anche personaggi forti. E, ma aspetta, ma io potrei trasformarmi da base a blu con lui? Ma sì! Ed eccolo qua, dal God, si va al Super Saiyajin Bruu! Bello! Ma gli restano però gli occhi rossi? Eh, gli sono rimasti quelli gli occhi rossi. Perché fanno riferimento, chiaramente, al Super Saiyan God come mod. Quando ci sono questo tipo di modifiche, ma perché è tornato normale? Ma che fa? Un po' confuso, lui? Probabile! Carica la massima potenza! E andiamo direttamente allo sparking. Va, ce lo permette. Uuuuh! Kamehameha Divina! Finale! Godiamocela, amico mio! Faccela vedere! Colpo di grazia! A te! Travolto totalmente. Mamma mia! Spaccato in due! E ragazzi, è rimasto solamente... Chi è? Ehm... Il caro Bu Han. Ritorniamo normale. Anche qua gli occhi restano blu. No, gli occhi non restano blu. Ebbene... No! Però ci sta. Che belli però questi abiti, eh! Proprio da... D'armatura Saiyan. Come dire, invece di prendere più gli abiti di Goku, o qualcosa di simile, no? Il Ghi di Goku, ha ripreso più gli abiti di Vegeta. Ehm... Mamma mia! Quanto a Buschi! Quindi stiamo ripercorrendo la storia, ma con delle belle variazioni. Qua va direttamente al God. Guardate Laura. Vedi, organizzata apposita... Oh! Ma che è rimasto bloccato in quella cosa? Non è la prima volta che mi succede, eh! Mi succede abbastanza spessino. Ecco qua, concludiamo. Io voglio assolutamente aspettare un altro pochetto, senza fare troppi danni, perché voglio concludere, se riesco direttamente, con Toppo in quella versione divinità della distruzione. Eh, eh, io ti scanzo tutti i colpi, brother. Dai, che bella quest'aura. Ci sta. E adesso è arrivato il momento. Vai Toppo! Cerchiamo di concludere con la Suprema, se riesco. Dobbiamo ottenere lo spartino in quanto prima. Colpiscimi. Adesso però ci siamo. Che forza magnifica! Lui si gasa. Lo facciamo anche noi. E questa è la tua fine. Super! Sfera! Della disgregazione! Neh, curiosissimo di vedere la schermata finale di Toppo, perché ci potrebbe presentare delle belle sorprese. Vediamo. Lo becchiamo, no? Ovviamente. Assolutamente sì. E quindi, l'abbiamo disgregato. Majin Buu totalmente scomparso. Ed ecco la schermata finale. Anche lui di spalle. Un po' come il Goku Ultraistinto. Molto carino. Che ne pensate di queste mod? Scrivetemelo nei commenti e presto ne arriveranno tante altre sul mio canale.